ciao ragazzi io sono nicolò bentornati sul mio canale oggi a grande richiesta nuova top five in questo caso parliamo di nuovo di scarpe invernali però rimaniamo low budget infatti oggi vi consiglierò 5 sneakers sotto i 200 euro che secondo me vale la pena prendere per questo inverno come sempre è una top five ma non sono in ordine dalla migliore alla peggiore sono in ordine sparso poi starà a voi decidere quali preferite chiaramente se avete qualche consiglio per me o per gli altri che guardano questo video lasciate sotto nei commenti la prima scarpa che voglio consigliarvi ovviamente è una jordan one modello super iper mega popolare super iper mega visto e rivisto super mega iper amato da me e da moltissimi altri la colorway che voglio proporre per la versione high è la pollen questa versione nera e gialla che secondo me è davvero spettacolare davvero bella molto 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 sottovalutata prezzo di retail del modello jordan one high è di 160 euro questa la portata a casa con 180 190 euro compresa la spedizione perché purtroppo l'interesse per la jordan one sembra essere sceso ma secondo me questo è il momento migliore per aggiudicarsene un paio perché le pagate davvero poco più del prezzo di retail come comprarle al prezzo di retail più la spedizione quindi c'è poca differenza ed è un modello che non morirà mai uno dei modelli migliori della storia è popolare dall'85 e sicuramente fa sempre e comunque un figurone il prossimo modello che voglio consigliarvi è la new balance 550 una scarpa che ha guadagnato una incredibile popolarità dopo che new balance ha deciso di riproporlo per la prima volta dagli anni 80 90 una scarpa da look molto semplice e complicato allo stesso tempo che dà un effetto al piede secondo me anche abbastanza simile a quello delle air force one però con degli accenti decisamente diversi decisamente più particolari il prezzo di retail si aggira intorno ai 120 130 euro a livello di resell potete trovarlo intorno ai 150 170 euro al massimo per una scarpa che secondo me vale davvero la pena avere consigliarvi una colorway è abbastanza difficile perché generalmente sono tutte molto semplici quindi quasi completamente bianche con alcuni accenti di colore può essere nevi green red semplicemente white ma la mia preferita che dovrebbe uscire nei prossimi mesi è questa qui in colorazione university blue quindi con questo azzurino molto leggero che secondo me è davvero spettacolare un colore che va bene sia per i mesi invernali che per i mesi estivi come terza scarpa torniamo di nuovo al modello jordan 1 ma questa volta andiamo in versione mid per una colorway che è molto più semplice da vestire rispetto alle pollen che secondo me è veramente veramente bellissima sto parlando della jordan 1 mid in colorazione light smoke gray un modello uscito in taglia da donna che presenta appunto una tomaia quasi interamente bianca e grigia con lo swoosh in nero color blocking davvero semplice davvero di impatto e che funziona davvero bene colori molto spenti quindi adeguati ai colori spenti dell'inverno molto semplicemente scarpa a collo alto quindi tiene caldo il piede e si tratta comunque di una jordan 1 che ripeto un modello intramontabile prezzo di retail di 120 euro al momento a reselle trovate intorno ai 180 non più di 200 euro comunque sui 170 180 euro dovreste riuscire a portarvela a casa e secondo me dovete farlo abbastanza in fretta perché ritengo che sia un modello che molto presto salirà di prezzo e potrebbe anche superare la soglia dei 200 euro quindi non vorrei che uscisse da questo video quindi vi consiglio di fare in fretta se le volete ricordate che purtroppo essendo un modello da donna la taglia massima che potete avere è il 44 e mezzo non sono state prodotte in taglie maggiori penultima scarpa che voglio consigliarvi è la air force one in collaborazione con supreme non è sicuramente una delle mie collaborazioni preferite perché la trovo un po troppo semplice però sicuramente il modello air force one è intramontabile anche questo è molto caldo per l'inverno e avendo il tocco di supreme avete un po di hype in più nella scarpa e visto che è stata rilasciata ormai parecchie volte direttamente dal sito di supreme i prezzi si sono abbassati decisamente infatti adesso la maggior parte delle taglie le potete trovare tranquillamente al di sotto di 100 euro anzi tranquillamente anche con 160 170 euro viene portata a casa un paio ed è una scarpa davvero semplicissima da vestire e che comunque fa scena l'ultimo pezzo che voglio proporvi è molto più particolare ed è una release davvero davvero nuovissima molto poco anticipata molto poco vista che secondo me non deve essere sottovalutata perché si tratta di una scarpa davvero bellissima sto parlando della jordan 1 low mocha esatto il modello mocha è stato fatto anche low in questo caso la colorazione del marrone è leggermente diversa dalle jordan 1 high mocha è abbastanza più tendente a rossastro come marrone piuttosto che a un marrone molto più legnoso e troviamo dei dettagli molto più particolari come l'imbottitura rosa in più molto bello da tenere conto insieme a questa scarpa quando l'acquistate vengono inclusi direttamente dei lacci rosa che si fanno molto travis scott ma ci stanno bene c'è poco da fare travis scott ha trovato una combo che funziona e quindi nike ne approfitta e la ripropone questa scarpa è stata appena rilasciata quindi il prezzo di resell al momento è intorno ai 170 180 euro ma potrebbe scendere perché comunque moltissimi negozi ancora devono rilasciare la scarpa e quindi ci saranno più paio in giro i prezzi si abbasseranno un po al momento si aggirano intorno ai 180 euro però tenetele d'occhio su stock x visto che magari scenderà il prezzo e io vi consiglio davvero tanto di acquistarle perché sono bellissime e essendo un modello poco conosciuto se le avete al piede tutti quanti vi chiederanno ma quelle da dove arrivano dove le hai prese non le avevo mai le viste e voi le avrete bene ragazzi per questa top 5 è tutto fatemi sapere nei commenti quale di queste avete intenzione di comprare o qual è la vostra sneakers preferita per questo inverno se questo video vi è piaciuto mi invito a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao